Ciao Laura, siamo alle porte di Pistoia, ma è una posizione strategica, montale, prato, comodamente raggiungibile, Villa Smilea, in un posto anche magico, si risale addirittura al 1400 probabilmente o forse anche prima, però tutto magicamente ristrutturato. Ed è un luogo che è diventato una location sicuramente attrattiva, che dici? Sì, appunto grazie al lavoro di Filippo e Mattia che hanno ripreso questo luogo per farlo diventare una location per possibili eventi, sia serati, organizzati da loro, che eventi privati per le persone che vogliono sfruttare questo posto per festeggiare un giorno particolare. E allora chiediamo direttamente a Filippo, visto che ce l'abbiamo. Ciao Filippo, buonasera. Buonasera a tutti. Senti, c'è la musica in sottofondo, si sta preparando una delle tante serate che vivrà finalmente questo splendido posto? Certo, abbiamo preparato tutta l'estate e il martedì sera aspettiamo tutti qua alla Villa Smilea perché sicuramente sono delle serate molto interessanti con la musica, anche musica dal vivo e delle gustose per i cieli. E poi so che si può anche utilizzare magari per piccoli eventi privati. Siamo qua a disposizione di tutti per organizzare eventi privati, come i monti, i patrimoni, i cerimoni in genere, perché insomma il contesto della Villa si presta a questi eventi. E sento anche che c'è uno staff frenetico che sta allestendo la serata. Certo, certo. Tutti ragazzi molto vogliosi di fare bene e quindi aspettiamo tutti. Senti, per avere informazioni, prenotare o altro? Sì, per prenotare potete tranquillamente fare riferimento anche alla pagina Facebook della caffetteria La Smilea, oppure venire qua direttamente a parlare con noi perché siamo qua ad aspettare. Perfetto, allora mentre la musica marcia, io Filippo ti saluto. Senti Laura, beviamo qualcosa già che siamo qui? Sì, anche perché si beve molto bene. Benissimo, allora chiamiamo il cameriere. Ciao Filippo. Ciao a tutti. E grazie.